Farro, dieta mediterranea, mediterraneo, mare, mare, polpo, un'insalata tiepida di polpo e farro. Andiamo a vedere gli ingredienti. Sedano, carote, cipolle ed erbe aromatiche, il polpo, le olive, il farro precotto, sale e olio. Mettiamo il polpo nella pentola a pressione. Cuociamo il polpo per 40 minuti. Ho scelto il farro, naturalmente precotto a vapore, quindi cottura breve e pochissime calorie. Ciao. 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 Ed ecco la mia ricetta con il farro precotto, semplice, leggera e conviviale. Grazie di pezzo. Grazie a tutti